Gian Paolo Beretta, sindaco di Borgo San Dalmazzo, una festa un po' per tutto il territorio cuneese, quella di oggi qui a Prato Nevoso. Una grande festa dello sport, un'occasione anche per rimarcare quanto la provincia di Cuneo, quando farete e fa gruppo, come può organizzare degli bei eventi sportivi, non solo a livello nazionale. Quindi una festa, ma soprattutto una vittoria del territorio e sicuramente un grande e un caloroso ringraziamento a chi ha organizzato questo bel evento. Sicuramente una bella vetrina per tutto il territorio. Sicuramente una bella vetrina, un'occasione anche per far conoscere il territorio cuneese al grande e vasto pubblico. Vediamo appunto anche la risposta dell'appassionato cuneese rispetto a questa manifestazione, c'è un grande amore in tutta la provincia, anche a Borgo San Dalmazzo. Certo, al di là della passione sportiva c'è proprio una risposta massiva e concreta e anche puntuale dal cuneese che comunque quando ci sono degli eventi risponde in modo massiccio, in modo anche positivo. Quindi questa è una bella cosa, sono degli eventi che speriamo di ripetere nei prossimi anni. Grazie, buona giornata.